ciao ragazzi bentornati sul mio canale youtube oggi altra review dei foot fantasy tre giocatori del campionato nostrano quindi della serie a tonali che ita e nani da andare ad analizzare mettetevi comodi e gustiamoci questa review partiamo dal fantasista portoghese del venezia che come potete vedere qui giocato da punta con questo spunto riesce a entrare bene nella di rigore e finalizzare con il destro palla al piede non è proprio sua agilità nel senso che non è un giocatore che è così irresponsivo ai micro movimenti infatti vedete qui come si perde in un nulla di fatto questa sua azione e anche qua dentro l'area di rigore non è proprio il più agile di quelli che ho provato però devo dire che giocato in un attacco a due quando c'è da ammollare la palla in porta gliela butta guardate qua pure col mancino time and giallo come trova comunque l'incrocio quando invece l'ho giocato da esterno vedete qui che si sente tanto quel parametro della velocità scatto un po bassino penalizzato tanto da quell'accelerazione elevata però regà vi ripeto quando c'è da buttarla dentro guardate qua 99 di potenza tiro che si è inventato boom pennolata la del piero una roba incredibile però anche qua vi faccio vedere come con quello speed boost non è che dia quegli strappi importanti tipici di un giocatore che dovrebbe fare la differenza sulla fascia anche qui va via ma va via perché la palla rimbalza e poi davanti la porta la butta fuori nonostante il time and verde ma glielo abboniamo un un errore quanto a tonali qui l'avete visto in due ottimi intercetti in fase di recupero palla e qui con questo scavetto però quello che secondo me colpisce di questo giocatore è tanto la sua fase difensiva veramente al top impeccabile mentre un po meno efficace quando si tratta di dover impostare l'azione quindi magari temporeggiare per cercare l'inserimento dei propri compagni li pecca un po e non è che abbia fatto così tanto diciamo la differenza però se consideriamo l'ottica upgrade che certo non è che chissà quanto lo migliori sotto quell'aspetto permettonale di assoluto livello soprattutto per quello che costa quanto a che da qui si esibisce in un ottimo speed boost ma conclusione un po masticata e nonostante le statistiche devo dire che palla al piede per esempio si muove molto meglio di nani e non credevo proprio il body type lo aiuta tanto in questo gli manca un po questo speed boost sul primo controllo e in area di rigore allora qui lo vedete muoversi bene e arriverà anche a finalizzare una grande una grande occasione da fermo andendola di precisione nell'angolino però come possiamo vedere da queste altre clip diciamo che la porta non è che la veda benissimo è qui time head verde qui tiro col mancino quattro piede debole fuori ancora una volta qui la butta dentro ma era molto facile diciamo che è un giocatore molto discontinuo qui guardate ancora una volta sfrutta tantissimo bene la sua agilità ma la palla è fuori quindi allora raga dopo aver provato questi tre giocatori partiamo da nani con le considerazioni finali come avete visto è un calciatore abbastanza discontinuo un po in generale per quanto riguarda il 5 5 va bene gli da una mano devo dire che anche il piede debole è abbastanza solido con il mancino l'ha buttata dentro più volte avete visto però quell 81 di velocità scatto si fa sentire veramente tanto sia per quanto riguarda il discorso speed boost che è di una discontinuità incredibile sia per quanto riguarda il portare il pallone con il primo tocco che magari è un po più bruciante per rivedere l'accelerazione ma poi a cavalcata il giocatore si vede che inizia a fare un po di fatica mi è piaciuto tanto da seconda punta infatti quel 99 di potenza tiro e l'86 di finalizzazione devo dire rendono discretamente bene anche da cc non male perché poi ha anche degli ottimi passaggi la reattività l'equilibrio l'agilità la forza sono dei parametri che combinandosi assieme anche al body type insomma avete visto portano come risultato non proprio quel micro movimento che piace a noi spettacolare che permette di disorientare gli avversari semplicemente muovendovi no lui ha bisogno anche di altro quindi magari di fare la skill eccetera eccetera perché un po impacciato no spesso e volentieri però in linea generale non è un cattivo giocatore il problema che secondo me lo limita ulteriormente è il prezzo prezzo che al momento si aggira più o meno sui 480 e mi sembra fuori mercato quindi se può calare calerà allora meglio soprattutto magari da seconda punta manca un giocatore così inseriamo magari lui è di bala coppia dei sogni però allo stato attuale delle cose non mi sento di consigliarvelo per quanto riguarda che da balde invece parliamo di un giocatore che innanzitutto costa molto meno perché costa più o meno sui 120 mila crediti alto normale un metro 81 44 lui velocissimo però anche qua a breve arriveremo a dare delle conclusioni finalizzazione 89 potenza tiro 93 che non mi sembrano dei parametri reali perché la porta non è che la vede con questa grande decisione passaggi ci interessa molto poco quell'80 di reattività e quel 91 di forza mi hanno stupito ma in positivo perché io mi aspettavo che il giocatore fosse un comò un comodino invece visto il suo body type snello sembra non risentire troppo di quella di quella situazionaccia quindi si muove anche abbastanza bene quello che però mi sembra oltremodo pompato è quella velocità e quella accelerazione perché parla al piede non è che dia questi grandi strappi anzi ha uno speed boost anche lui non così costante alle volte gli esce bene alle volte gli esce male però in linea generale anche lui magari rispetto a un muriel che è molto più compassato risente molto più del gameplay mi sento di preferire tutta la vita un un ketabalde eppure bello agile quando lo muovete con le finte di tiro cancellate che diciamo sono la skill migliore che si possa fare con questo giocatore visto che non c'ha la quinta di piede debole e a proposito di piede debole quel 4 mi è parso forse più un 3 e mezzo no perché avete visto come col mancino la porta anche con i time had verde abbia fatto fatica a trovarla quindi diciamo che in termini di qualità prezzo è assolutamente promosso in termini di rendimento un po' meno perché un giocatore del genere quando la palla ce l'ha deve buttare dentro soprattutto se ha 89 di finalizzazione e 93 di potenza tiro e invece questo non accadeva quindi diciamo che promosso con riserva o rimandato a settembre al momento ketabalde ma veniamo al nocciolo centrale di questo video che immagino sia il giocatore che più vi interessava che è sandrino tonali normale alto di work rate per lui che si sente veramente tanto perché soprattutto in fase difensiva nonostante con l'ultimo live update è stata ridotta la capacità dei centrocampisti rinculare a difendere in area di rigore in maniera automatica lui lo fa ancora benissimo avete visto come ha recuperato un paio di palloni da solo arrivando in area di rigore il 3 di skill lo penalizza un po' nei movimenti il 4 di piede debole invece lo rende abbastanza versatile quando si tratta di scaricare il pallone verso i compagni anche con il mancino è discretamente veloce non ha quello strappo ovviamente ma ci interessa abbastanza poco anche il tiro avete visto esibirsi in quello scavetto ma non avendo questa grande propensione offensiva difficilmente lo vedrete in in zone pericolose del campo passaggi che sono ottimi sia il corto che il lungo quella agilità lì con 86 di equilibrio 85 di reattività e 87 di forza visto anche il body type onestamente me l'hanno reso molto impacciato quando si trattava di dover andare poi a rifinire l'azione fare magari un suggerimento verso un compagno e questo penalizzato anche dal work rate perché o lo portate voi o lui quando mi mettete a manovrare cercando il rinforzo dei centrocampisti è un po riluttante a salire per quanto riguarda invece le stats difensive lettura 82 intercettazione 85 secondo me non gli rendono giustizia perché fa un sacco di interventi automatici mandato il raddoppio strappa la palla dai piedi agli avversari da solo avete visto pure quell'animazione scivolata che è la prima volta che ho visto recuperare una palla così ha gettato proprio il cuore oltre l'ostacolo e non dimentichiamoci che tonali comunque giocando nel milan diciamo che due su tre upgrade grattatevi ma dovrebbe prenderli abbastanza facilmente e anche magari in cinque partite non dico un gol ma un assist un passaggio vincente potrebbe tranquillamente trovarlo quindi questo tonali da 89 potrebbe passare a 92 è un giocatore con queste caratteristiche potrebbe anche scavalcare barella in quelle che sono le gerarchie nel campionato italiano visto che costa 200.000 crediti e ci chiamo tutte le icon e tutti i peggio giocatori onestamente fare questo tonali magari anche con dei fodder pagarlo sul 100k tenerlo nel club in attesa che possa scoppiare secondo me ne vale la pena e lui è sicuramente straconsigliato rispetto agli altri due che è vero che comunque sono dei buoni giocatori ma chi più chi meno si portano dietro una serie di gravi problemi anche per questo video è tutto fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi tre giocatori che mi hanno convinto ma non fino in fondo come avete visto in descrizione vi ricordo tutti i link di riferimento alla piattaforma viola dove sono live ogni giorno a me non resta altro che augurarvi una buona giornata anzatona liberoski ciao